Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake all'albicocca, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, uova, zucchero, latte condensato, burro fuso, sale, estratto di vaniglia, lievito per dolci vanigliato, latte tiepido, confettura di albicocca e granella di zucchero. Andiamo in via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10, riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le uova e ad azionare il bimbi per 8 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungere il latte condensato, il burro fuso e l'estratto di vaniglia ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 4. aggiungere la farina, la fecola, il latte, il sale e il lievito ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4. Versare tre quarti del composto in uno stampo da plum cake da 28 cm ben imburrata e infarinato. Mettere la confettura di albicocca e variegare con una forchetta. versare il resto del composto e cospargere con la granella di zucchero. cuocere in forno pre riscaldato statico a 165 gradi per 50 60 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. il plum cake è cotto lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo plum cake all'albicocca grazie e alla prossima ricetta a presto a presto a presto a presto